Tante troppe le strade cittadine al buio, impianti vecchi e spenti, a rischio la sicurezza dei messinesi, soprattutto quella di chi vive nelle periferie. Il caso Bisconte che abbiamo portato alla ribalta con i nostri servizi è solo un esempio concreto. Il Consiglio del Terzo Quartiere chiede all'amministrazione a Corinti soluzioni immediate. Questa mattina seduta aperta presso la sala ovale di Palazzo Zanca, alla quale sono stati invitati l'assessore ai lavori pubblici De Gola e i dirigenti Amato e Saglimbeni. Basta con il rimpallo delle responsabilità, quello della pubblica illuminazione in città sta diventando un problema serio. Attendiamo un cambio di lampadina dal mese di luglio, ci sono 4-5 impianti che sono spenti, c'è una situazione di pericolo, di incolumità pubblica che viene minata dalla presenza del buio, ci sono furti in abitazioni. Non possiamo più attendere oltre, questa mattina speriamo che l'assessore dia qualche risposta positiva perché non è più accettabile che diano delle giustificazioni come ritardi, ditte che non hanno i requisiti. Noi in questo momento abbiamo necessità di sostituire lampadine e di ripristinare impianti, far tornare alla normalità la cittadinanza. Ci sono, ripeto, zone come Bordonaro, Provinciale, Bisconte, Rione Sant'Annibale, dove i cittadini non ce la fanno più, sono veramente stanchi. E quindi è necessario un intervento straordinario, è necessario che l'amministrazione si smuova, si pensa ai grandi progetti, si pensa ai ponmetro, però si deve pensare anche a cambiare una lampadina. Il villaggio di Bisconte è totalmente al buio, rappresenta uno dei casi più eclatanti delle difficoltà che Messina sta vivendo in relazione alla clamorosa carenza di pubblica illuminazione. Soffre il centro, soffrono le periferie e nel caso di Bisconte la criticità è anche rappresentata dal fatto che attualmente non esiste un progetto per un nuovo impianto di pubblica illuminazione che sostituisca quello attualmente presente, talmente obsoleto che anche le lampadine praticamente non si trovano più sul mercato. Dopo i nostri servizi, che hanno raccolto anche l'appello del parroco Alessandro Marzullo, si è registrato l'intervento deciso del consigliere comunale Nino Carreri, che si è scagliato contro l'amministrazione del sindaco a Corinti. La scusa, divenuta ormai insopportabile, dichiarato il rappresentante PDR Sicilia Futura, è che il villaggio Bisconte ricade in zona di risanamento e da qui la totale esclusione dagli investimenti, seppur minimi, per le manutenzioni e per gli interventi di ogni genere. Quindi, oltre al danno causato dal blocco delle opere di risanamento, anche la beffa di restare esclusi da qualsiasi intervento di ordinaria amministrazione. Niente manutenzione stradale, niente manutenzione dei servizi di fognatura e di impianti di illuminazione, niente di niente. Bisconte, all'urgenza di riavere la luce, ha concluso Carreri, a prescindere da tutte le chiacchiere immotivate che spingono burocrati e amministratori a fare solo ciò che torna utile al consenso o a beceri interessi di bottega.